Una delle parole chiave che purtroppo direi ci sta facendo compagnia in questa calda estate è inflazione. L'abbiamo conosciuta, qualcuno magari la ricorderà per via degli episodi degli anni passati, a partire dai mesi passati, appunto soprattutto legati alla guerra in Ucraina. Ebbene questa parola inflazione oggi è all'oggetto di questa nostra intervista e nello specifico voglio dare il benvenuto al dottor Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori perché assieme al dottor Antonelli parleremo dei rincari dovuti appunto all'inflazione che colpiscono le vacanze e l'estate degli italiani. Buongiorno dottor Antonelli, benvenuto e ben trovato. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. Allora partiamo da questa stangata così come è stata definita relativa alle vacanze degli italiani perché gli aumenti potremmo dire a doppia cifra che hanno colpito questo periodo estivo relativamente appunto ai periodi di ferie degli italiani sono importanti. Io le chiederei allora di farci una sintesi di questa elaborazione dei dati che avete fatto a partire da quelli dell'Istat del mese di giugno. Esatto, diciamo che la cosa migliore per le vacanze è restare in Italia perché i rincari maggiori sono innanzitutto per quanto riguarda i voli. Quindi pensate che solamente da maggio a giugno, quindi in un solo mese, i voli nazionali sono aumentati del 17,8%, i voli intercontinentali dell'11,9% e i voli europei del 7,4%. Quindi sono nei primi tre posti medaglia d'oro, d'argento e di bronzo per quanto riguarda i rincari mensili. Al quarto posto il trasporto marittimo con più 6,7%. Poi vengono tutti gli altri, quindi villaggi vacanze con 6,7%, alberghi con 5,4%, pensioni con 3,5% e così via. Però in testa ci sono i voli. Tra l'altro i voli sono in testa anche per quanto riguarda i rincari annui. Cioè rispetto a giugno del 2022, nel giugno del 2023 i voli nazionali sono aumentati del 28,9%, quindi praticamente quasi un terzo, i voli europei del 26%. Poi abbiamo in quarta posizione i gelati e quindi vabbè, questo è quello che compriamo al supermercato per intenderci. Poi i pacchetti vacanze nazionali con il 18,4% e poi via discorrendo tutti gli altri posti, bibite analcoliche, qui in Eclipsi dovrebbero avere acqua del rubinetto perché le bibite analcoliche sono aumentate del 17,4% e poi di nuovi alberghi, succhi di frutta, tutti dicono che i succhi di frutta possono far bene per dissetarsi e così via. Beh, i succhi di frutta e le verdura sono aumentati rispetto alla scorsa estate del 15,8%, le acque minerali dell'11,9%, quindi ripeto, se potete bevete acqua del rubinetto, chiedi risparmiati soldi. Dottor Antonelli, l'inflazione nell'area euro, gli ultimi comunicati della BCE danno un raffreddamento, potremmo chiamarlo così, anche se nelle tasche degli italiani questo congelamento, chiamiamolo così, dovuto anche e soprattutto alla politica monetaria restrittiva adottata dall'Istituto di Francoforte, non è percepita pienamente. Io voglio citare dei dati relativi sempre a questo argomento che stiamo trattando insieme, che vede degli aumenti addirittura nello specifico sui servizi di ristorazione, dei servizi di alloggio, chiedo scusa, a Firenze ad esempio a giugno è stato registrato un'inflazione del 45%, 45,8% per essere precisi. Ecco, secondo lei non le sembra un dato talmente fuori misura che stride poi anche con quella che è la realtà delle cose? Allora, in tutta Europa e quindi anche in Italia l'inflazione sta calando. Naturalmente questa è un po' un'illusione ottica, perché l'inflazione misura la variazione dei prezzi, quindi vuol dire che i prezzi in Italia ad esempio stanno aumentando del 6,4% in media, ma il che vuol dire che stanno ancora aumentando, quindi hanno già raggiunto un livello dei prezzi assoluto elevatissimo e stanno ancora aumentando, quindi non è che questa inflazione calante risolvi i problemi delle famiglie che non ce la fanno ad arrivare alle fine del mese. Il calo in Europa si deve innanzitutto al calo del prezzo del gas, quindi il vero motivo principale è questo. E il calo del gas, ahimè, non si deve a chissà quale politica diciamo dell'Europa, perché ha fatto un po' pochino, ha fatto solo il famoso tetto al prezzo del gas che peraltro non è mai scattato. Lo si deve al fatto che in Europa abbiamo avuto il secondo inverno più caldo di sempre, quindi a fronte di una domanda di gas che diminuiva rispetto agli anni passati il prezzo siamo riusciti a contenerlo. L'Europa doveva fare un mercato alternativo al TTF di Amsterdam, cioè mercati all'ingrosso del gas, ma non ha fatto praticamente ancora niente, quindi ancora aveva fatto molti di più. La politica monetaria dell'Ebce un po' c'entra, ma un po' pochino, nel senso che è chiaro che l'Ebce non può fare nient'altro che aumentare i tassi di interesse, però non rimuove in questo caso la politica monetaria, cioè quella dell'Ebce, non rimuove le cause dell'inflazione, che sono appunto il caro gas, il caro luce e in passato anche il caro benzina. Rispetto al dato di Firenze, allora questo riguarda i servizi di alloggio, quindi alberghi, motelle, pensioni e così via. Firenze al primo posto, rispetto alla scorsa estate i prezzi aumentano del 45,8%, al secondo posto Palermo 34,2%, Roma al 23,9%. Allora questi dati come si devono leggere? Allora l'inflazione è sempre una cosa negativa perché riduce il potere d'acquisto delle famiglie. Le cause dell'inflazione possono essere positive o negative, negative come quello per i gas, cioè un'inflazione importata che non dipende dal fatto che siamo più ricchi rispetto a prima. Per quanto riguarda invece i servizi di alloggio, la causa può essere positiva, cioè c'è un afflusso di turisti nuovo a Firenze, un aumento della domanda molto forte e quindi chiaramente gli alberghi aumentano i prezzi, quindi può essere un effetto negativo per chi deve andare in albergo ovviamente e per le tasche comunque delle famiglie, ma può essere sintomo di una ripresa turistica della città di Firenze, Palermo e Roma che sta al terzo posto e quindi può essere letto come comunque un apporto di soldi in quella città per gli albergatori e per il turismo in genere, quindi le cause possono essere positive o negative, in questo caso possono essere positive. Quindi da quello che lei ha detto, dottor Antonelli, anche a beneficio dei nostri telespettatori, esiste un'inflazione positiva, esiste un'inflazione negativa, l'importante è saper contestualizzare bene i dati in base a come vengono... Rispetto alle cause, cioè se l'aumento dei prezzi deriva dal fatto che le famiglie sono più ricche, aumenta la domanda, è un effetto collaterale che è sempre negativo perché comunque si produce il potere d'acquisto delle famiglie, ma è sintomo di maggiore ricchezza. Quindi le cause possono essere positive. Quella che abbiamo vissuto fino ad oggi invece è un'inflazione del tutto negativa perché non dipende da un aumento della domanda, ma da speculazioni, da una restrizione dal lato dell'offerta, dal fatto che le materie prime sono aumentate, la pasta è aumentata perché c'era un cattivo raccolto in Canada e negli Stati Uniti, c'è stata la guerra dell'Ucraina, è aumentato il prezzo del grano tenero, è aumentato il prezzo della luce del gas, quindi tutti i motivi che non dipendono da una maggiore ricchezza del Paese, dell'Italia o dell'Europa, ma dipendono da speculazioni perché comunque all'origine di tutto c'è la speculazione sul prezzo del gas, cioè la paura che in qualche modo la Russia potesse interrompere le forniture di gas ha fatto sì che ci fosse qualcuno che speculava allegramente sul prezzo del gas nel mercato di Amsterdam, che andrebbe infatti eliminato perché è un mercato molto oggetto favorevole per le speculazioni, perché è un mercato troppo piccolo, quindi basta che ci siano pochi speculatori per far sì che il prezzo salga, che è quello che è successo ad agosto della scorsa stanza. Esatto, volevo arrivare proprio a questo perché noi l'anno scorso in questo periodo parlavamo di un prezzo del gas ad Amsterdam di circa 300 euro a megawattora, adesso siamo intorno ai 30 euro, se non ricordo male, in base agli ultimi dati, siamo ancora lontani ovviamente dal periodo precedente alla guerra, però comunque questa spirale speculativa si è raffreddata per fortuna. Vediamo anche ovviamente... È una speculazione in agosto, perché? Perché in agosto i calorifici sono spenti, ma siccome l'Europa aveva stabilito che bisognava fare gli stoccaggi entro settembre, quindi aveva stabilito addirittura, errore, una data, entro la quale gli stati dovevano arrivare al 90% degli stoccaggi e così via, si era costretti ad comprare il gas anche nel mese di agosto, che è un mese freddo, dove i calorifici sono spenti e questo ha consentito agli speculatori di speculare, perché fino a che si permette nei mercati dell'ingrosso di poter speculare, gli speculatori speculano, semplicemente a questo vengono cambiate le regole in generale del mercato. Assolutamente. Abbiamo conosciuto la speculazione sui titoli di Stato, il famoso spread, soprattutto anche nel mese di agosto, come ritorna anche un po' poi la storia, corsi e ricorsi storici, e abbiamo conosciuto anche la speculazione del gas. Per chiudere, dottor Antonelli, io vorrei che lei ci facesse una battuta relativamente all'inverno. Sembra un periodo estremamente lontano, viste anche le temperature che stiamo vivendo, che stiamo subendo in questi giorni, però tra pochissime settimane dovremo di nuovo fare i conti con questi argomenti legati soprattutto al freddo. Allora, l'Unione Nazionale Consumatori, che tipo di inverno si aspetta dal punto di vista delle bollette? Perché i nostri amici telespettatori vogliono sapere se ci saranno dei rincari, se magari il gas continuerà a scendere e di conseguenza anche il costo in bolletta. Allora, purtroppo non ci aspettiamo nulla di buono. È difficile fare previsioni perché dipende anche da quello che farà la Russia, da quello che succederà durante la guerra, ma a ottobre ci sarà ovviamente una ripresa della domanda dovuto ai consumi e quindi di solito ci sono sempre stati degli aumenti per quanto riguarda in particolare la moda il prezzo del gas. Il prezzo del gas al quale comunque poi è collegato il prezzo della luce perché la luce si fa anche con le centrali termogasse, quindi in qualche tubo, gas e così via. Quindi non ci aspettiamo, ahimè, nulla di buono e quindi ci saranno probabilmente degli aumenti. Speriamo che la BCE possa contenere un po' l'inflazione, però la BCE com'è che agisce sull'inflazione? Non rimuovendo, come dicevo prima, le carte, cioè il famoso prezzo del gas, che andrebbe risolto sul piano della politica fiscale dell'Europa. Ma semplicemente agisce aumentando i tassi di interesse, si riducono gli investimenti, per questa via si riduce il prodotto interno lordo e quindi a fronte di una menore crescita, che è un prezzo da pagare, ci potrebbe essere un po' una riduzione dei prezzi. Ma è, diciamo, un po' una, per dirla con le parole dell'On. Meloni, secondo noi sbagliate, cioè non è vero che la cura rischi di essere peggiore dalla malattia. La malattia, cioè l'inflazione, è comunque quella più grave che ci sia. Il problema è che la cura della BCE ha molti effetti collaterali, quindi è come dare a uno che ha l'inflazione, che ha un'infezione, dare un antibiotico ad ampio spettro, non avendo individuato esattamente qual è la malattia, qual è il batterio che va abbattuto. E quindi questo è il vero problema. Quindi potrà fare qualcosa la BCE, ma se ripartono le speculazioni sul mercato del TTF di Anstrana, siamo comunque spacciati. Allora, dottor Antonelli, ieri o forse stamattina il Corriere della Sera parlava di un eventuale raffreddamento dell'aumento dei tassi di interesse da parte della BCE. Io però la vorrei precettare già da ora, magari poi ci organizziamo per le prossime giornate, per parlare di quella che è appunto la ricaduta effettiva sulle tasche degli italiani. Sappiamo di questi mutui a tasso variabile che sono schizzati a livelli vertiginosi. Allora, io la precetterei già da ora per parlare di questo argomento importante, perché sono tanti gli italiani che stanno soffrendo a causa di questi aumenti dei tassi da parte della BCE, che si riflettono poi ovviamente nella vita di tutti i giorni. Per adesso però ci dobbiamo salutare e la ringrazio per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie. Ringraziamo allora il dottor Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori per per questo interessante approfondimento sull'inflazione e sui vari rincarichi che ci sono e ci saranno riguardo all'estate degli italiani. Noi adesso ci fermiamo per la pubblicità e poi ritorneremo ancora insieme.